Vola fratelli d'Italia e salgono anche Movimento 5 Stelle e Lega. È quanto emerge dal sondaggio SWG illustrato in diretta da Enrico Mentana nell'edizione serale del TGLA 7 di oggi 14 novembre. Il partito di Giorgia Meloni supera addirittura il 30% attentandosi dunque al 30,1% con una crescita di 0,7 punti percentuale rispetto alla settimana scorsa. Il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, rileva ancora il sondaggio ha guadagnato uno 0,2% ed è quindi salito al 17%. I grillini restano quindi il secondo partito e si trovano di un punto netto sopra il Partito Democratico guidato da Enrico Letta che resta stabile al 16%. E attenzione! Perché nel centrodestra crescono tutti i partiti, probabilmente trascinati dalla volata di Fratelli d'Italia. Bene dunque la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. In particolare, il Carroccio nell'ultima settimana prende uno 0,4% in più e sale all'8,1% tornando così sopra azione Italia Viva di Calenda e Renzi che invece perdono lo 0,4% e scendono all'8%. Gli azzurri del Cavaliere conquistano nell'ultima settimana mezzo punto percentuale e si attestano dunque al 6,8%. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.